ciao patata ciao patatina viene il caffè mannaggia mannaggia andiamo a vedere qui che situazioni che è ecco patatina che non mi abbandona mai quando sono qui alla cucina è vero quanti passi faccio io quanti passi fa lei e questo è l'amore mio e questo è l'amore mio questa patatina pizzinina e questa gelosona che da quando c'è pietro di lanca merina amore mio amore mio vita della mia vita amore mio pizzinina questa è una pizzinina e questo è un pizzinino bellino che se lo fa toccato tutto questo maialino maialino lei è sempre a cercare carezze le coccole della mia vita quando mi metto nel divano mi contempla vero rimane seduta giù di sotto e mi guarda mi guarda la mia amore della mia vita poi però non è tanto dolce ma c'è anche quel carattere tanto aggressivo tanto quando gli piglia 5 minuti carica a me carica a Gino poro Gigi che è tanto buoncito com'è il tuo Gigi è tanto innamorato di te di quando ti piglia il matto grazie a tutti grazie a tutti